c'era una volta una scrofa che viveva in campagna assieme alla sua famiglia un giorno mentre dava da mangiare i suoi piccoli passò di lì una cagna che cominciò subito a provocarla dicendo l'imbocchi ancora tu i miei a quell'età sono già autonomi la scrofa fece finta di non sentire pensando solo a nutrire i suoi figlioli se fai così continuò la cagna non li svezzerai mai e non diventeranno mai adulti la scrofa cominciò a spazientirsi e sbuffare ma non volle replicare confidando nel fatto che la presto si sarebbe stancata ma non fu così la cagna non sentendosi considerata divenne ancora più insistente quanto dura la tua gravidanza chiese in modo spocchioso la scrofa decise allora di cambiare strategia e le rispose con la speranza che fosse l'ultima domanda dura esattamente 114 giorni che corrispondono a tre mesi tre settimane e tre giorni e per questo la nostra gravidanza è stata soprannominata 333 allora io ti batto replicò la cagna e lo sapevo già perché la mia gravidanza dura in media 62 giorni ed è la più corta tra i quadrupedi la scrofa ormai esausta sentenziò sarà anche la più corta ma devi ammettere che metti al mondo figli ciechi la cagna allora se ne andò via con la coda tra le gambe e la scrofa pote così dedicarsi interamente ai suoi porcellini cosa vuole insegnarci esopo con questa favola che le opere non si giudicano dalla velocità con la quale vengono eseguite ma da come vengono eseguite se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale